Buongiorno a tutti siamo qui per i giovedì del Parli nella loro versione breve quindi un faccia a faccia con un autore di un volume di storia contemporanea avvicinandoci al 25 aprile e in corrispondenza del lavoro dell'istituto per il nuovo museo nazionale della resistenza a Milano incontriamo oggi il professor Massimo Baioni dell'università di Milano appunto autore di recente del volume vedere per credere il racconto museale dell'Italia Unita edito da Viella nel 2020 diamo il benvenuto e il buongiorno a Massimo. Buongiorno grazie Mirko grazie all'istituto per questo invito. Bene allora il professor Baioni si è distinto negli ultimi anni per lo studio molto accurato delle rappresentazioni del risorgimento nella storia d'Italia e quindi vorrei partire proprio di qui. Il libro mostra bene come attraverso il racconto museale il risorgimento sia stato rappresentato con numerose continuità ma anche con forti discontinuità tra regime liberale, regime fascista, regime repubblicano. Sì ovviamente il risorgimento è stato non solo l'atto di fondazione dello stato unitario ma anche direi proprio il mito di fondazione del nuovo sentimento di appartenenza nazionale all'indomani dell'unità e quindi è entrato automaticamente all'interno della rappresentazione museale che si è sviluppata a partire soprattutto dagli anni 80 e 90 dell'ottocento, un periodo importante non casuale perché la fine, la morte dei grandi protagonisti delle lotte risorgimentali, dei grandi artefici dell'unità ha consentito la loro proiezione in una chiave celebrativa nella costruzione di una pedagogia patriottica di cui i musei sono stati parte integrante assieme ovviamente a tutti gli altri canali attraverso cui passava questa chiamiamola alfabetizzazione patriottica. Quindi i musei hanno svolto un ruolo significativo da questo punto di vista, che tipo di interpretazione, di lettura, di rappresentazione del risorgimento hanno cercato di mettere in scena, direi prevalentemente una rappresentazione unitaria, rassicurante, in grado di attenuare le tante divisioni che ancora erano presenti all'interno della società italiana, che erano presenti anche nel campo memoriale, nel campo della lettura del passato, proprio perché il risorgimento era stata una realtà estremamente variegata, differenziata, sappiamo benissimo, tanti studi ce lo dimostrano, che la lettura, l'interpretazione, la ritualità costruita attorno al risorgimento giocava intorno a memorie conflittuali. Ecco, i musei, sia pure con differenze a seconda del territorio nel quale furono costituiti, cercarono di svolgere un ruolo, un ruolo diciamo rassicurante, un ruolo di costruzione di un sentimento unitario capace di cementare questo sentimento nazionale che era in fase di costruzione. Questo è un elemento di continuità, direi, nella storia della rappresentazione museale del risorgimento. Loro si ritrova nell'Italia liberale, lo si ritrova nell'Italia fascista, lo si ritrova anche nell'Italia repubblicana, naturalmente con delle differenti declinazioni. Il fascismo, ad esempio, se da un lato ha bisogno di legittimare se stesso anche all'interno dei musei, considerandosi come il momento conclusivo della tradizione patriottica nazionale, al tempo stesso però ha bisogno di evidenziare gli elementi di originalità della propria proposta, della propria consistenza di regime politico novecentesco fondato su elementi moderni. Quindi c'è da un lato il raccordo con la tradizione patriottica del risorgimento, ma c'è anche il bisogno di esaltare, ad esempio in particolare, la grande guerra come momento di reale avvio della nuova Italia di cui il fascismo si considera portavoce, quindi anche come interprete e erede unico dell'esperienza della guerra. La guerra quindi è da un lato l'ultima guerra del risorgimento anche all'interno dei musei, ma può essere anche l'atto di fondazione di un nuovo sentimento di appartenenza nazionale, declinato in una chiave ultranazionalista e imperialista, specialmente nel corso degli anni 30. Dopo la seconda guerra mondiale, dopo la fine del fascismo, i musei cercano di recuperare la tradizione democratica del risorgimento, in primo luogo la nascita della Repubblica va ovviamente in questa direzione, però direi che rimane molto forte, almeno fino agli anni 60, questa tendenza a sottolineare gli elementi di unità, gli elementi di incontro, ecco, delle varie forze politiche protagoniste del risorgimento in funzione del risultato finale. Dicevo, ci sono evidentemente poi declinazioni varie nei singoli contesti territoriali, ma questo elemento di continuità mi pare molto molto presente. Nel volume sicuramente una parte importante è dedicata al caso torinese, Torino capitale, Torino sede del Museo Nazionale del Risorgimento, ma anche Torino protagonista delle celebrazioni del centenario del 61 e sfilano quindi i personaggi di rilievo, i vari ghisalberti, bulferetti, eccetera. Come dicevi però l'elemento territoriale è importante pure all'interno di una rappresentazione nazionale e sicuramente spicca un po' come contraltare il caso torinese e quello milanese soprattutto per il protagonismo di Monti. Ci vuoi dire qualcosa su Milano, visto che tutti noi stiamo lavorando a Milano? Sì, questo è un aspetto credo importante, cioè più in generale, quello di tenere presente come la realtà territoriale dei musei, musei del risorgimento, ma non solo, ovviamente anche altri musei storici, risente in maniera fortissima della specificità del contesto nel quale questi musei nascono. Esiste un unico museo nazionale del risorgimento, che è quello torinese che tu hai ricordato, che è davvero un osservatorio molto interessante per cogliere continuità e rotture nel lungo periodo, dalla fase liberale monarchica all'intervento pesantissimo dell'ex quadrumviro De Vecchi, che è il protagonista del riallestimento in chiave sabaudo-fascista del 1938, fino poi al ruolo di figure importanti dell'antifascismo come Antonicelli e Bulferetti, che sono i protagonisti del rinnovamento del museo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, questa esperienza del Museo Nazionale del Risorgimento non deve togliere però centralità e importanza ai tantissimi altri musei che nascono su basi locali, su basi, sono musei municipali sostanzialmente, che possono essere portavoce di una rappresentazione della tradizione risorgimentale molto diversa rispetto a quella rappresentata e impersonificata dal Museo Nazionale di Torino, inevitabilmente legato alla tradizione monarchica, almeno per gran parte della sua storia. Ecco, Milano, come peraltro altri musei dell'area padana soprattutto, recupera eventi fondamentali come quello delle Cinque Giornate, tra gli altri, cioè gli episodi di volontarismo, di eroismo popolare che caratterizzano l'identità municipale, sono proiettati all'interno degli allestimenti museali, diventano parte integrante nella costruzione di un sentimento nazionale che deve partire anzitutto dalle specificità locali. A cavallo tra 8 e 900 questo legame tra piccola patria e grande patria è un dato caratterizzante nella vicenda dei musei e non solo, diciamo nei processi più generali che conducono alla costruzione di un sentimento patriottico. Milano è particolarmente interessante perché tra le due guerre mondiali a Milano il direttore Antonio Monti è un protagonista assoluto della museologia dell'epoca, con proposte anche che oggi ci appaiono decisamente innovative e originali dal punto di vista anche della creazione di allestimenti che siano capaci di tenere insieme lo sviluppo scientifico storiografico e anche una partecipazione e dal basso una mobilitazione della popolazione attorno al tema del risorgimento, ma direi un risorgimento che viene rivisitato nell'ottica dell'esperienza della grande guerra. Monti è fascista convinto, partecipa di quella esaltazione della grande guerra a cui facevo riferimento prima e traduce sul piano della sensibilità museologica questo legame tra l'antica tradizione risorgimentale e la novità prodotta dalla guerra di massa, dalla partecipazione alla trincea di milioni di soldati, quindi con soluzioni tecniche anche molto originali che oggi appaiono in una luce diversa proprio anche di fronte ai problemi nuovi che la rappresentazione museale del passato sta attraversando. È una realtà quindi quella milanese molto interessante direi esemplificativa ecco di questo di questa dialettica che esiste per tutte le tre le stagioni dell'Italia Unita anche durante il fascismo e nonostante la cappa la cappa totalitaria del regime ma anche durante il fascismo esiste questa articolazione che secondo me è molto interessante tra centro periferia, tra tentativo di costruzione dall'alto di una certa immagine di risorgimento e varie forme di resistenza o resilienza se vogliamo che si collocano a livello locale nelle singole realtà museali. Sì devo dire che nel volume emergono molto bene sia le specificità territoriali oltre a quella che citavo di Milano molto interessante il discorso sui musei dei luoghi di confine delle regioni acquisite durante la prima guerra mondiale e a proposito del fascismo come dicevi molto interessante l'articolazione del dibattito interno per esempio le novità degli anni 30 la mostra della rivoluzione fascista del 32 come queste questo sperimentalismo poi venga un attimo riassorbito no nella fase della fase successiva se ci vuoi dire qualcosa su questo visto che gli studi sul fascismo che hai fatto sono stati molto importanti e il tema è ancora molto caldo è appena uscito volume sulle mostre fasciste della Carli per esempio sì certo questo libro di Maddalena Carli è molto importante proprio centrato in particolare sulla politica espositiva sulle mostre che ebbero un ruolo importantissimo durante il fascismo la la mostra della rivoluzione fascista il caso più interessante perché fu evidentemente un grande evento insieme politico e mediatico che esprime bene credo quella tensione a cui facevo riferimento prima tra un regime che da un lato non può fare a meno di collocarsi nella lungo nella lunga profondità della della storia che non può fare a meno di collegarsi al risorgimento e da qui anche tutta la politica di appropriazione nazionalista di personaggi come Garibaldi in primo luogo Mazzini e altri quindi un fascismo come inveramento della storia nazionale secondo le letture di 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 un Gioacchino Volpe di un Giovanni Gentile ma al tempo stesso proprio dentro la cultura fascista si collocano altre voci altre altre interpretazioni altre letture del passato che esprimono quella natura sincretica della cultura fascista la mostra della rivoluzione non a caso copre mette in scena un'auto rappresentazione del fascismo tutta giocata sugli anni 14 22 come a dire quello è il momento centrale per capire l'originalità la novità la modernità del fascismo e lo fa con delle soluzioni estetiche che oggi ci appaiono estremamente moderne che ebbero all'epoca grande fascino ovviamente tra i contemporanei e che furono in parte riprese anche nel dopoguerra perché le prime mostre del 45 46 quelle promosse dall'antifascismo dall'antifascismo piemontese in particolare alcune mostre itineranti molto interessanti eh da un lato ovviamente eh risentono della necessità di eh uscire dal dal dall'immagine eh nazionalista del risorgimento promossa dal fascismo eh dall'altro però risentono sul piano dei linguaggi eh della delle novità che il fascismo aveva introdotto nella nella museologia nelle nelle politiche espositive più in generale degli anni 30 ovviamente come dicevamo si sta lavorando per un museo nazionale sulla resistenza il tema della resistenza è stato più complesso da rappresentare anche in sede museale ehm nel libro emerge bene questo questa questione e quindi sia per le difficoltà di una rappresentazione unitaria della resistenza sia appunto per la necessità di tener conto eh del progresso ci racconti qualcosa su questo? Ma dunque eh la resistenza entra nelle sale dei musei non in maniera autonoma sappiamo lo sai lo sai benissimo che eh musei della resistenza veri e propri non non esistono per molto tempo esiste il museo della liberazione a Roma legato a via tasso alle forze ardeatine musei della resistenza per per attendere la nascita di musei autonomi autonomamente dedicati alla seconda guerra mondiale alla resistenza bisogna bisogna attendere ancora eh parecchio tempo all'inizio per la resistenza si presenta lo stesso problema la stessa questione che si era presentata in precedenza per altri fenomeni successivi al risorgimento colonialismo la grande guerra il fascismo cioè i musei del risorgimento si ampliano eh e accolgono al loro interno queste tappe ulteriori del della storia eh nazionale che da un lato dimostrazione di quanto abbia pesato anche il risorgimento nel lungo periodo di quanto abbia pesato il confronto con l'atto di fondazione dello stato dello stato unitario ecco quindi la resistenza entra a sua volta come appendice di questo processo entra eh secondo la classica immagine del secondo risorgimento che ha avuto una lunga fortuna che è un'immagine che hanno un poche forzature naturalmente ma che in quel momento rispondeva ad una logica di potenziamento anche simbolico della della lotta di partigiana della lotta di liberazione cioè del bisogno di agganciare la resistenza la guerra partigiana ad una tradizione democratica di più lungo periodo e quindi di recuperare tutto un patrimonio di valori di idee di simboli della della tradizione democratica di risorgimento che la resistenza si incaricava di rinnovare nel presente è significativo credo che molti musei nel dopoguerra nel secondo dopoguerra abbiano cambiato denominazione siano diventati musei del risorgimento e della resistenza musei del primo e del secondo risorgimento musei del risorgimento della lotta per la libertà cioè c'è un fortissimo bisogno di ancorare di tenere insieme questi questi due momenti fondamentali diciamo della storia della storia nazionale con l'obiettivo con l'obiettivo di rinnovare un sentimento patriottico nazionale in una fase in cui parlare di questi temi non era proprio non era proprio facilissimo ecco quindi la resistenza entra in questo in questo contesto museale ci entra secondo questa caratteristica che ho appena che ho appena ricordato per poi direi diciamo emanciparsi ecco anche dal punto di vista espositivo dal punto di vista rappresentativo secondo me soprattutto nel corso già negli anni 70 ma soprattutto nel corso degli anni 80 e qui credo ci sia un legame stretto anche con il rinnovamento più generale della storiografia sulla seconda guerra mondiale e sulla e sulla resistenza che la che si è abbiamo vissuto nel corso degli anni 80 e poi degli anni 90 che si è tradotto anche in nuove domande di rappresentazione museale del passato e in nuove soluzioni espositive che conosciamo quali si sono venute realizzando appunto negli ultimi decenni del novecento. Sicuramente diciamo il passaggio 89-91 ha cambiato lo scenario della memoria pubblica non solo italiana anche anche europea e da questo punto di vista si è avvertito un'esigenza di rilettura che si è tradotta anche in un certo fermento dal punto di vista museale ecco tu nell'epilogo del volume parli appunto di questi nuovi musei storici dal museo di Torino all'M9 al MACE di Ferrara ecco come vedi il panorama museologico di musei storici italiani in questa fase? Beh dunque intanto devo precisare che il libro si ferma agli anni 60-70 come ricerca perché perché ritengo che in quella fase si chiuda un po' una stagione nel rapporto con le memorie patriotiche tradizionali una certa idea di patria di nazione comincia ad essere fortemente contestata tra gli anni 60 e gli anni 70 quindi il rapporto della società italiana nel suo complesso con con il passato con il deposito di tradizioni di miti patriotici e quindi anche con le sue rappresentazioni conosce un'incrinatura direi decisiva ecco dopo l'89 dopo la fine della guerra fredda dopo anche la crisi della della cosiddetta prima repubblica e con la crisi delle grandi narrazioni storiografiche ideologiche che avevano retto per tanto tempo nel nei decenni precedenti si apre una fase indubbiamente nuova ecco non ho aperto semplicemente nel libro mi limito ad aprire una una finestra su questi su questi sviluppi perché non sarei in grado di entrare nel dettaglio non ho fatto ricerche specifiche in proposito credo sia un cantiere di ricerca aperto estremamente interessante che andrebbe indagato tenendo insieme tante variabili le tante componenti che entrano in gioco quando si fa la storia dei musei a me interessa in primo luogo la storia dei musei e l'uso pubblico della storia che si fa all'interno dei musei quindi nel nel loro rapporto con le domande sociali di storia credo sia da quello che conosco insomma dal dai libri che ho letto in proposito ci sono casi molto molto interessanti perché il museo sta tornando al centro è tornato al centro di un grande dibattito che insieme teorico e storiografico come il museo deve entrare in questo nuovo modo di raccontare il passato la nuova geopolitica nazionale internazionale in che modo ha inciso nel nel racconto nel modificare il racconto del passato ci sono ci sono tendenze varie se guardiamo a livello internazionale è interessante notare che in alcuni contesti penso alla polonia penso all'ungheria vengono riproposte letture letture nazionaliste ultranazionaliste del passato letture che cercano di eludere la complessità della della storia della storia della storia del novecento per riproporre invece con forza il tema dell'orgoglio nazional patriottico la vicenda del museo della seconda guerra mondiale di danzica ad esempio è molto interessante da questo punto di vista per quanto riguarda l'italia direi che c'è un doppio movimento cioè da un lato ci sono i musei storici quelli tradizionali quelli del risorgimento quelli della grande guerra che stanno sforzandosi di diciamo aggiornarsi di modernizzare di rinnovarsi al loro al loro interno tra tante difficoltà perché non dimentichiamo che questi musei hanno sì svolto un ruolo socialmente molto rilevante ma spesso in condizioni di precarietà a lungo ecco la situazione di precarietà in cui questi musei hanno lavorato è stata una una costante che è tanto più significativa il rapporto invece al peso e all'importanza che hanno avuto nella nella società con numeri anche di visitatori molto molto alti molto elevati ecco quindi da un lato i musei tradizionali che stanno cercando di rinnovare il loro assetto espositivo tenendo conto del del dibattito storiografico delle acquisizioni recenti di questo dibattito storiografico e dall'altro musei chiamiamoli di nuova generazione prima tu ricordavi il museo del novecento di mestre che fosse il caso più significativo più interessante da questo punto di vista che evidenziano evidenziano il passaggio da da musei il passaggio comunque l'esistenza di musei che non sono di collezione come quelli tradizionali che sono musei narrativi musei che giocano molto sul tasto della multimedialità di un approccio nuovo con un pubblico molto più ampio che che è abituato a gestire linguaggi strumenti massmediali e quindi è una proposta una proposta di tipo di tipo nuovo e che in itinere è che andrà valutata nella sua nella sua efficacia nella sua capacità di tenere insieme quello che è un po la sfida credo cruciale di di ogni proposta di racconto museale della storia cioè una una proposta interpretativa che sia costantemente appoggiata alle ricerche alla ricerca storica e quindi al ai progressi del dibattito storiografico alla varietà la pluralità di queste proposte e dall'altro anche però un linguaggio che sappia coinvolgere che sappia emozionare anche se vogliamo questo è un elemento di lungo periodo perché anche i vecchi musei puntavano puntavano a questo però puntavano principalmente alla all'emozione al coinvolgimento erano templi sacrari laici del patriottismo più che luoghi di formazione di una coscienza storica complessa e oggi la sfida consiste nel creare una consapevolezza di questa profondità di questa complessità del passato attraverso un costante confronto tra il dibattito scientifico storiografico i linguaggi nuovi attraverso cui passa la rappresentazione della della storia come avrete capito dal volume di baioni è possibile ricavare uno sfondo molto interessante una prospettiva di lungo periodo anche su questioni molto attuali si accenna nel libro come avete appena sentito a dibattiti importanti anche dell'attualità penso in italia al dibattito sul eventuale museo del fascismo a predapio in europa al dibattito sulla casa della storia europea di bruxelles come ci diceva adesso il professor baioni del resto il museo è sempre stato una modalità di narrazione del passato con un evidente risvolto una funzione pubblica ecco io vorrei concludere proprio su questo da questa analisi di lungo periodo che tu ci hai offerto non solo con questo lavoro ma qui mettendo a sintesi molte delle cose e delle ricerche degli ultimi anni qual è la specificità del museo storico come vettore di memorizzazione pubblica rispetto agli altri canali che hai accennato la storiografia accademica la stampa i media e tutte le altre forme di quella che oggi chiamiamo public history ma sì come come accennavo come accennavo in parte anche prima credo sia molto interessante proprio la specificità del linguaggio dei linguaggi al plurale attraverso cui i musei hanno hanno cercato di coinvolgere i destinatari ecco questi destinatari sono stati sempre molto variegati il mondo della scuola per molti decenni il mondo militare ma diciamo la la cittadinanza i cittadini in senso in senso lato il tema il tasto del coinvolgimento emotivo direi è la chiave di lettura di lettura principale che per tutta la fase aurorale dei musei andava in una direzione di costruzione di un sentimento di venerazione patriottica ecco di utilizzo di cimeli di oggetti di documenti che diventavano reliquie vere e proprie di fronte alle quali il destinatario era chiamato ad assumere un atteggiamento di raccoglimento religioso no quindi si trattava in questo senso di musei patriottici più che di musei storici vere e propri come oggi noi li intendiamo fenomeno ben inteso non solo italiano fenomeno che possiamo riscontrare in qualunque altro paese alle prese con processi ampi e complessi della costruzione delle identità dell'identità nazionale ecco quindi l'utilizzo del degli oggetti la loro disposizione all'interno delle sale non ha mai avuto nulla di casuale è tutto un una progettazione fondamentale attraverso cui prende corpo una narrazione del del passato e questa ancora oggi per certi versi è un elemento cruciale ecco nella 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 progettazione e nella pratica del del museo ovviamente con intenti che sono molto diversi rispetto a quelli che potevano dominare fino alla prima metà fino alla prima metà del novecento nel momento in cui la public history si propone come una sorta di ponte tra tra la storiografia tra gli studi e la società il museo effettivamente il museo storico diventa un luogo di pratica e di pratica della public history estremamente interessante io vedo la la public history prevalentemente come come una straordinaria occasione professionalizzante per per giovani che che maturino esperienze competenze conoscenze in ambito storico e possano poi metterle a frutto al all'interno del del dibattito pubblico dello dello spazio pubblico in una in un rapporto stretto con 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 la società da questo punto di vista il lo spazio museale diventa effettivamente un luogo luogo di grande interesse in cui sperimentare queste nuove forme di partecipazione di condivisione con con il pubblico partendo però sempre appunto da quello che ritengo comunque la base la base fondamentale che è quella della della ricerca senza la ricerca senza le 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 novità che la ricerca ci può dare anche dal punto di vista della della trasmissione nel nel pubblico della della storia diventa difficile anche per la public history riuscire a portare qualcosa di interessante di eh e di nuovo un'ultima cosa che secondo me è è importante io credo che nel negli allestimenti museali oggi qualunque allestimento museale è dovrebbe avere al suo interno dovrebbe contenere al suo interno eh una parte che riguarda la storia del museo cioè le diverse letture le diverse interpretazioni che si sono depositate nel corso dei decenni eh ritengo siano parte integrante della proposta eh di un museo nuovo di oggi perché è un modo intanto di valorizzare anche degli oggetti che non non avrebbe senso oggi esporre no perché rinvierebbero ad un uso reliquiario quasi feticistico ma quello stesso oggetto assumerebbe valore molto diverso se inserito all'interno di una racconto delle letture delle immagini delle filosofie espositive che si sono succedute nel corso del tempo e quindi un modo credo di di legare eh le le letture generazionali eh sia dal punto di vista storiografico sia dal punto di vista proprio delle delle politiche concrete degli degli allestimenti delle esposizioni degli esposizioni museali eh grazie molte Massimo direi che anche queste ultime indicazioni sono come tutto il volume sono di grande interesse anche per chi appunto come noi sta affrontando la sfida di un nuovo museo nazionale della resistenza a Milano e quindi le valutazioni sul rapporto col territorio il rapporto con la storiografia il rapporto con le memorie precedenti anche quest'ultima eh ragionamento sul museo metanarrativo potremmo dire no che racconta la sua storia mentre allestisce una nuova una nuova esposizione eh ringraziamo molto il professor Baioni vi invitiamo tutti a acquistare leggere il volume vedere per credere eh edito eh Daviella e vi diamo appuntamento ai prossimi eh giovedì del Parri e anche visto il tema eh augurandovi un buon venticinque aperite. Grazie. Grazie e arrivederci. Buon lavoro.